È un momento bello perché si compie il sogno che Illuminati Aretini, come Monsignor Tafi, che ad Arezzo conoscete tutti, desiderava poter rivedere il Duomo con la luce naturale. Finalmente questa nuova banca che è arrivata ci ha permesso di fare questo intervento. La cattedrale di Arezzo ritrova la sua antica luce. Sono infatti state restaurate e riaperte le finestre circolari poste nella parte superiore della navata centrale. Erano state chiuse prima della Seconda Guerra Mondiale a causa delle infiltrazioni di acqua piovana che mettevano a rischio gli affreschi sottostanti. La loro chiusura comportò allora un notevole limite alla luce necessaria per illuminare gli affreschi che oggi tornano a risplendere grazie ad un finanziamento di UbiBanca. Il nostro modo di far banca per bene. Abbiamo creato una divisione dal 2011 a oggi che fa solamente questo tipo di attività che ha valenza sociale. Perché riteniamo che nel momento in cui si fa del bene per la comunità, questo bene poi ritorna e ritorna a tutti, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Direi che la città deve gratitudine storica a Banca Etruria per quello che di bene è stato fatto a suo tempo. Dopodiché deve accogliere la nuova banca e fare in modo da lavorarci insieme, cioè i capitali che ad Arezzo ci sono, sarà bene che comincino a girare attraverso la banca della città.